In un gesto di profonda empatia e umanità, la compagnia teatrale Le Favenere, in seno alla proloco di Sava, ha regalato ai detenuti del carcere di Taranto un momento di svago e leggerezza, mettendo in scena la commedia brillante Semi di Melagrana. Come nasce l'idea di questa rappresentazione all'interno della casa circondariale di Taranto? Quando è capitata l'occasione, l'opportunità di questo evento, per noi è un evento, nel Consiglio di Amministrazione abbiamo tutti accettato all'unanimità. Un'iniziativa carica di significato e solidarietà, nata dal desiderio di ricambiare la gentilezza dei detenuti che, all'interno della sartoria del carcere, hanno realizzato gli abiti dei personaggi della commedia. Il nostro gancio è la nostra direttrice artistica Lusi Continuo, che ha avuto l'opportunità di contattare il direttore e ancora una volta metterci d'accordo per dare la possibilità di farci conoscere naturalmente e di dare anche ai signori che ci sono qui di sensibilizzarli ulteriormente e anche di avere modo di conoscere la nostra storia che va dalla messa apia ai greci. La commedia si intitola Semi di melagrana, effettivamente è stata scritta da me, sul suggerimento della professoressa Melle di Sava, che è appassionata di maschere greche, quindi più volte mi ha sollecitato a scrivere una commedia con le maschere greche. Ho sposato l'incontro dei messapi con gli dèi greci, visto che c'è stata la magna grecia. Ovviamente i messapi hanno adottato le tradizioni dei greci e quindi pure gli dèi, e quindi gli dèi ovviamente sono nati con l'aura, con le maschere. Abbiamo chiesto in prestito gli abiti di scena alla Proloco di Talsano e la Proloco di Talsano, con il suo direttore Armando, ci ha spiegato che gli abiti sono stati cuciti dagli ospiti della casa circondariale di Taranto e quindi ci siamo detti che non possiamo utilizzare gli abiti e non farli vedere come rappresentazione agli ospiti della casa circondariale e quindi stiamo qui. Abbiamo chiesto autorizzazioni, è stato così gentile il dottor Aresta a mettersi a disposizione, abbiamo dato codici fiscali, documenti di identità, ma nulla ci ha fermato. Oggi rappresentiamo semi di mela grana ringraziando gli ospiti della casa circondariale. Un mix di arte, storia e mitologia attraverso la costante presenza del simbolismo che in modo rispettoso e garbato si intreccia nella trama della rappresentazione teatrale stessa. I miei attori hanno subito accettato e stiamo qua, nonostante la pioggia ci fa piacere in parte far vedere anche le tradizioni dei nostri paesi, della nostra zona e poi anche a riscoprire le leggende antiche che sono anche precedenti rispetto a quelle romane. Infatti i nomi degli dei non sono quelli romani, quindi Giove, Giunone, ma sono addirittura quelli greci, quindi Zeus, Hera, Eris. È stato un viaggio anche attraverso il tempo. Da una parte la prestigiosa bravura degli attori sul palco, dall'altra le preziose maschere di cartapesta realizzate dalla professoressa Annalisa Melle, dei veri e propri capolavori ottenuti persino dal modello originale delle maschere custodite all'interno del Marta di Taranto. È nato un 8-10 anni fa la compagnia, si chiama Le Fave Nere. Qualcuno mi chiede perché Le Fave Nere? Fave perché Sava è conosciuta con il nomignolo di Mangiafai. Nere perché in realtà c'è una varietà selvatica di fave che non viene attaccata dalla spurchia, che sarebbe, diciamo così, la pianta che uccide le piante delle fave. E quindi io aggiungo come sottotitolo le fave nere che hanno lì fotti la spurchia. La spurchia sarebbe la pianta, diciamo, malefica, ecco. Questa propessa da casa sua. Guarda come è bella. Per Zeus, ma questa è una melatrana. Il sud, per il vino dei morti. Ma come ti è venuto in mente di portarlo qui? Io sono stato, come dire, incaricato da tutti gli dèi a portare i vari messaggi, a tenere informato tutto ciò che succede inerente a quello che si parla nella commedia. Quindi io sono il portavoce un po' degli dèi, ecco. Per cui all'incarico di dare delle coordinate, di far rispettare dei ruoli per non far accavallare tipo chi è di un rango più sotto che si possa mettere a pari degli altri personaggi più importanti. Quello delle fave nere della Proloco è un esempio luminoso che ha portato un senso di normalità in un contesto difficile quale è quello dell'Istituto Penitenziario, creando un legame umano, forte e significativo, che arricchisce entrambe le parti. Il messaggio è che comunque anche all'epoca si può dire che è il conflitto di interesse. Si fa tutto per poter arrivare a un fine, però il bello di questa storia è che fa vedere che il bene sovrasta un po' tutto il resto. Per cui è sempre un lieto fine. Questo è importante. Grazie a tutti.